Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca di una persona deceduta il drammatico bilancio del grave incidente stradale verificatosi questa mattina dopo le 10 lungo la A13 Padova-Bologna in direzione sud in prossimità dello svincolo con la A4 nel comune di Vigonza sul posto è intervenuta la polizia stradale di Rovigo per la presa in calico dei rilievi mentre i vigili del fuoco che hanno impiegato anche un autogru estraevano purtroppo dalle lamiere il corpo del conducente di un'auto di Italia a perdere la vita è stata Daniela Martini, 49 anni, di Longare del Vicentino uccisa sul colpo per la violenza dell'impatto, inutile ogni tentativo da parte dei sanitari del SUEM di rianimarla i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso la vettura completamente distrutta è rimasta infatti incastrata tra due mezzi pesanti nel corso di un tamponamento a catena l'utilitaria bianca è stata completamente sventrata ed è pressoché irriconoscibile il lesi i due camionisti, uno dei quali in stato di shock pesantissime le ripercussioni sul traffico paralizzato in tutta la zona anche in A4 con gli ausidiali dell'autostrada in campo per tamponare i disagi Nella tarda mattinata di oggi nella piazza più celebre di Siena una donna di origini padovane di 35 anni, GM residente da qualche tempo a Montalcino si è gettata dalla torre del Mangia morendo sul colpo nel tremendo impatto con il selciato si tratta di suicidio sembra che ci sia una delusione amorosa alla base del tragico gesto compiuto verso le 12 è salita infatti sulla storica torre di piazza del campo poi si è lasciata cadere non le ha dato scampo il volo di quasi 90 metri in piazza a quell'ora c'erano numerosi passanti e turisti che hanno assistito alla drammatica scena si è conclusa in questi giorni una lunga e articolata indagine condotta dai NAS di Firenze denominata Mito per il contrasto del traffico e del consumo illecito di sostanze o farmaci ad azione doppante l'attività di indagine avviata un anno fa coordinata dalla procura della Repubblica di Firenze è partita con il sequestro in un ufficio postale di Valdarno un plico proveniente dalla Polonia contenente sostanze vietate per doping anche ad azione stupefacente nei giorni scorsi un anno dopo l'inizio delle indagini è scattata l'operazione che ha interessato diverse regioni d'Italia 150 i militari impiegati dei carabinieri per la tutela della salute e dell'arma territoriale tra le province di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Padova, Udine e Vicenza eseguendo 36 decreti di perquisizione locale e personale che hanno portato al sequestro 3.719 compresse e 604 fiale di farmaci e sostanze anabolizzanti per un valore di 35.000 euro che si aggiungono alle quasi 500 unità già sequestrate nel corso delle indagini 35 anni e una lunga serie di precedenti per spaccio l'uomo residente a Monserici è stato fermato dai carabinieri della cittadina poco dopo le 21 di ieri l'uomo era appena sceso da un treno regionale e uscito dalla stazione aveva imboccato un viale ben presto però si è trovato davanti ai militari che gli hanno chiesto i documenti e conoscendone il passato torbido hanno proceduto con una perquisizione i sospetti non hanno tardato a trasformarsi in certezze addosso all'uomo sono stati trovati due involucri contenenti eroina in sasso ossia in forma grezza oltre un grammo di hashish elementi che pochi dubbi hanno lasciato circa il fatto che il Quinta Valle questo suo cognome fosse tornato a dedicarsi ai loschi affari di sempre e che quello stupefacente servisse per essere tagliato e quindi rivenduto al dettaglio l'uomo è stato arrestato stesso capo d'accusa ma con una denuncia è stato elevato a carico di un 22enne RF pregiudicato di 90 padovana nella sua abitazione si sono presentati ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione per una perquisizione che ha dato i suoi frutti nella camera da letto del ragazzo sono stati fatti sequestrati 5,1 grammi di hashish sufficienti a fronte dei precedenti a suffragare il provvedimento ancora la cronaca ha ucciso il padre ottantenne a coltellate poi ha cercato di togliersi la vita è successo questa mattina a Verona il parricida si chiama Rudy Pauguer 49 anni è stato soccorso dai sanitari dal 118 e quindi trasportato all'ospedale di Borgo Trento secondo quanto riferito dagli investigatori della squadra mobile della questura scaligera l'uomo avrebbe ucciso il padre Walter Pauguer che era malato da tempo ieri a Padova si sono svolti alcuni controlli antispaccio a cura dei carabinieri della città principale e del centro di intervento operativo di Mestre i militari di via Nicolò Tomaseo hanno assistito ad una compravendita di soffacente tra un pusher nigeriano e un cliente padovano l'operazione ha portato all'arresto in flagranza di reato del 26enne nigeriano OCJ che oltre alla detenzione dei fini di spaccio deve rispondere anche di resistenza pubblico ufficiale per aver cercato di sfuggire al controllo segnalato invece come assuntore un 23enne di Baone che aveva appena acquistato cocaina si è tenuta questa mattina in Aula Magna del Bo la conferenza dal titolo Sister in Arms focus per i saperi, le culture e le politiche di genere in collaborazione con il comando delle forze operative nord dell'esercito e del ruolo soprattutto delle donne nella risoluzione dei conflitti il servizio di Giulia Tasca si è tenuta questa mattina nell'Aula Magna di Palazzo Bo la conferenza dal titolo Sisters in Arms focus dell'evento organizzato dal centro Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere in collaborazione con il comando forze operative nord dell'esercito italiano il ruolo fondamentale delle donne nella risoluzione dei conflitti in dieci anni, dopo la legge del 20 ottobre del 1999 con cui l'Italia ha permesso l'arruolamento delle donne nelle forze armate e nella Guardia di Finanza la componente femminile nell'esercito, nonostante corrisponda solo al 5% del totale con circa 16.000 donne ha dimostrato di giocare un ruolo fondamentale nelle operazioni di peacekeeping e peace building interagendo efficacemente con i civili certo, come evidenziato da una dei relatori, la tenente colonnello Rosa Vinci Guerra la differenza tra accesso e integrazione della donna nelle forze armate è una questione a cui si sta lavorando per raggiungere una parità che sia sostanziale e non una mera formalità ma il messaggio di questo evento non è stato interpretato da tutti allo stesso modo proprio all'apertura dei lavori, un gruppo di studenti dell'università muniti di striscione con lo slogan fuori l'esercito da scuola e università e volantini informativi poi distribuiti tra i presenti sono entrati gridando il loro messaggio di protesta hanno definito la conferenza un pink washing ovvero una strumentalizzazione della giornata contro la violenza sulla donna atta ad unire due realtà che non dovrebbero mai coincidere quella dell'università e quella dell'esercito esprimere e far valere la propria opinione è un diritto discutibile è la scelta di non cogliere l'invito della prorettrice Annalisa Oboe di partecipare all'intera conferenza per permettere a tutti di esprimere la propria partendo da 20 anni fa quando sono state messe le prime donne ad indossare un uniforme almeno nell'esercito molti passi avanti sono stati fatti e adesso abbiamo veramente delle eccellenze sia in termini di impiego sia in termini di capacità operativa che possono esprimere abbiamo medici, psicologi, abbiamo piloti di elicottero, comandanti di compagnia carri tutte funzioni che richiedono sicuramente una grande preparazione una grande addestramento e soprattutto delle grandi capacità dobbiamo parlare soprattutto in questo mese in cui tutto lo fanno di che cosa significa essere donne in una società in cui non abbiamo ancora raggiunto la parità di genere il 25 di novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne tutti lo celebrano in tanti modi noi abbiamo in università un mix di iniziative davvero straordinario che parla di diritti, di donne migranti, di violenza domestica e oggi abbiamo voluto fare questo incontro tra due istituzioni l'università e l'esercito per confrontarci su come in due istituzioni così importanti a livello proprio anche nazionale e statale le donne stanno in università e nell'esercito che significa come le donne stanno nella scienza e nella formazione anche delle nuove generazioni noi lavoriamo per il futuro e le donne come stanno nella sicurezza che cosa significa avere un 5% di donne nell'esercito italiano e come intervengono nella pace, nella difesa ma anche nella guerra ora sono temi molto complessi noi abbiamo due storie, due narrazioni completamente diverse quella dell'università, quella dell'esercito non sono la stessa narrazione però alcune cose le condividiamo ed è per esempio la difficoltà di far passare un punto di vista, uno sguardo di genere nelle istituzioni per cambiare il modo in cui anche per rispondere ai bisogni della società di rendere il mondo di tutti non solo nelle istituzioni ma anche fuori un mondo più paritario un mondo più inclusivo un mondo che tenga conto delle differenze e che lavori per un futuro sostenibile si aprirà il 12 dicembre prossimo davanti alla corte d'assise di appello di Venezia il processo di secondo grado sull'omicidio di Maria Archetta Mennella la 38enne originaria di Torre del Greco uccisa il 23 luglio 2017 nella sua casa a Musile di Piave nel veneziano dove si stava ricostruendo una vita dopo la separazione per quell'omicidio è stato condannato il marito il pizzaiolo Antonio Ascione che attraverso il suo regale ha proposto appello contro la condanna a 20 anni di reclusione che sta scontando ora nella casa circondariale di Venezia inflittegli proprio dal giudice Massimo Vicinanza il 4 ottobre del 2018 l'obiettivo della difesa di Ascione è quello di ottenere un ulteriore ribasso della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche escluse in primo grado e tramite l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa sempre più in simbiosi l'Università e il Comune di Padova firmata infatti da Università di Padova e Comune di Padova l'impegno formale di cooperazione tra le università che fanno parte del gruppo Coimbra e le rispettive municipalità per porre obiettivi completi per lo sviluppo delle comunità locali e regionali attraverso la realizzazione di 10 punti a favore dell'educazione dei cittadini attraverso l'accesso alla cultura e alla conoscenza vediamo il servizio di Giulia Tasca firmata oggi nella sala della nave di Palazzo Bo dal sindaco Sergio Giordani e dal rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto la dichiarazione Poitier un impegno formale di cooperazione tra città e università 10 punti dell'accordo per favorire lo sviluppo di realtà locali e regionali tramite la promozione e il trasferimento di cultura e conoscenza e l'aumento dei servizi a livello di politiche residenziali mobilità urbana internazionalizzazione delle attività universitarie e cittadine nonché sostegno all'espansione e all'imprenditorialità giovanile legata alla ricerca la dichiarazione rientra all'interno dell'ambito Poitier un protocollo di collaborazione tra università e comuni condiviso da 23 paesi europei di cui appartengono le 39 università del gruppo Coimbra di cui l'Università di Padova fa parte è una formalità importante perché tutte insieme le 40 università delle storiche dell'Europa firmano con le loro città il piano di azione comune la collaborazione la vita insieme ieri, oggi e domani per noi a Padova come diceva è una grande soddisfazione poter dire che la collaborazione non è un progetto per il futuro ma è una realtà di una città che ama la sua università e di un'università che in questa città vive benissimo c'è un rapporto con l'università con tutte le istituzioni molto positiva infatti quando ho chiesto ai miei ma perché devo firmare questa cosa qua che la facciamo già è perché va a sanciere un rapporto ma che già facciamo cioè non è come ha detto il Rettore prima un progetto che faremo lo facciamo già per cui c'è piena collaborazione sotto l'aspetto culturale artistico trasporti su tutto la città di Padova è una grande fortuna avere una grande università penso che sia reciproco perché io non so se è merito come dicevo prima della città avere un'università così o di così alta elevatura o viceversa io penso che sia merito anche questo di Padovani non lo dico perché non c'entro niente ma nel tempo sono stati i Padovani che sono creati questa università questa cultura è una delle cose famose quando ci gira per il mondo noi abbiamo il santo abbiamo l'università abbiamo l'ospedale la qualità dell'ospedale i pedrocchi sono poche cose significative che sono consiute nel mondo poi ne abbiamo tantissime altre ma tutte queste cose qua fa parte della qualità di Padova una qualità che Padova dimostra anche negli studenti penso veramente avere 60.000 studenti avere una città all'interno di una città dal 21 novembre 2019 al 22 novembre 2020 Cittadella ospita la terza edizione della Cittadella Geofestival che diventa anche speciale 800 anni il festival cinematografico infatti è inserito a pieno titolo nelle manifestazioni previste per i festeggiamenti degli 800 anni delle mura medievali di Cittadella che si svolgeranno nel 2020 conta la partecipazione di oltre 5.000 film da 72 paesi nel mondo sono stati selezionati per questa edizione ben 280 film che concorreranno all'assegnazione dei premi media partner della manifestazione sarà la nostra emittente la direzione del festival è del regista Rocco Cosentino vediamo siamo con Rocco Cosentino ideatore di questo festival che ospita Cittadella un appuntamento ormai che arriva quale edizione? allora siamo alla terza edizione del Cittadella Geofestival un festival del cinema che ormai è diventato una realtà internazionale assolutamente importante dico questo non per presunzione ma perché in questa edizione 5.830 film pervenuti da 72 paesi del mondo quindi questo ci dà a buon titolo questa immagine internazionale quindi massiccia presenza di film e quindi un festival che immagino si dilungherà per circa un anno sì questo festival è una terza edizione che noi chiamiamo speciale 800 anni perché perché Cittadella l'anno prossimo nel 2020 compierà 800 anni le sue mura compieranno 800 anni quindi è stato pensato di mantenere le stesse numeri di serate di proiezione ma le abbiamo diluite in 12 mesi una una serata al mese un giovedì al mese per 12 mesi domani alle ore 11 nella sala consigliare della provincia di Padova in piazza Antenore alla presenza delle autorità civili militari e locali sarà consegnato il sigillo provincia di Padova a 17 nuovi maestri del lavoro della nostra provincia nominati proprio a Roma dal presidente della Repubblica ancora il primo maggio del 2019 Fumi e ti manca il respiro oppure hai la tosse bene domani mattina in occasione della giornata mondiale della broncopatologia cronica ostruttiva dalle ore 9 alle ore 13 sul liston davanti a Palazzo Moroni si potrà eseguire un semplice esame del respiro e la spirometria all'interno di un gazebo i medici dell'unità operativa complessa di pneumologia ambulatorio per l'asma bronchiale e le malattie indotte dal fumo e dall'azienda ospedaliera Università di Padova che saranno a disposizione della cittadinanza per i test di screening gratuito e domenica 24 novembre dalle 10 alle 18 ritorna a Padova il festival del sorriso una giornata all'insegna delle festività con 30 laboratori divertenti e creativi pensati per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni ricordiamo che la partecipazione ai laboratori è compresa nel biglietto d'ingresso all'orto botanico in Prato della Valle che è gratuito per i bambini e per le bambine fino ai 18 anni e ritorna a Padova il festival del sorriso seconda edizione all'orto botanico di Padova domenica 24 novembre dalle 10 alle ore 18 una giornata all'insegna della felicità con 30 laboratori divertenti e creativi pensati per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni la partecipazione ai laboratori è compresa nel biglietto d'ingresso all'orto botanico che è gratuito per bambine e bambini fino ai 12 anni bene è tutto per questa nostra edizione del giornale vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni non dimenticate di digitare il vostro sito preferito www.caffettv24.it per rimanere costantemente aggiornati www.caffettv24.it